La professoressa Piera Pappalardo è insegnante di tecnologia, questo concorso è stato inserito in un progetto più ampio. Dunque, la nostra scuola, dalla prima alla terza media, ha attivato un progetto orientativo per le future scelte. E nel mondo dell'artigianato sappiamo che un settore produttivo spesso viene anche dimenticato. E in seconda media la regione Lombardia ha attivato proprio per rinnovare questo concetto di artigianato e orientare i ragazzi verso un settore, ripeto, a volte accantonato. È il secondo anno che la nostra scuola vince il primo premio e quest'anno ulteriormente ha vinto anche il secondo e anche il quarto. Per cui abbiamo visto, diciamo, grande entusiasmo da parte dei ragazzi. Il lavoro non finisce qui perché da settembre le scuole vincitrici vedranno un artigiano in classe che mostrerà la costruzione di un manufatto, farà costruire a ragazze un manufatto che verrà esposto poi a dicembre in fiera, quando ci sarà la fiera sull'artigianato. Per cui speriamo che tutto si possa concludere, diciamo, positivamente. Sembra a favore delle scelte dei ragazzi, delle scelte future dei ragazzi. Marco Lanfranchi, sei classificato primo in assoluto in questo concorso. Che cosa ti è stato chiesto di fare? Di giocare a questi giochi che mi hanno fatto capire dei mestieri dell'artigianato che non sapeva ancora esistessero. Mi sono partecipato bene a questo concorso e infatti sono arrivato primo. Facciamo magari qualche esempio di questi giochi, come si svolgevano, che cosa ti era richiesto? C'era un gioco, il gelataio, che bisognava, nella prima fase, bisognava comporre dalle ricette che ti diceva il gioco e nella seconda fase bisognava comporre dai gelati il più velocemente possibile per soddisfare il cliente. Sabrina Merelli, che cose hai imparato da questa esperienza? Che nel mondo dell'artigianato ci sono diversi lavori da poter svolgere, il gelataio, il meccanico, il tecnico luci e suoni, l'orologiaio, lo stilista. Poi ho scoperto, scoprendo questi mestieri, ho potuto approfondire le conoscenze che avevo già acquisito. Federico Girola invece ci spiega come è stata la giornata a Milano in cui è stato ritirato il premio. Allora, ieri siamo partiti noi e due altre classi di questa scuola per andare a ritirare i premi che avevano vinto al Palazzo della Regione di Milano. Ci hanno accompagnato due professori per classe, più la vicepreside, la professoressa Tucci. È stata una giornata molto interessante dove abbiamo anche trovato a premiarci delle varie persone importanti. Il pomeriggio siamo andati a vedere il Davide di Donatello che era a Milano appunto. Abbiamo vinto una lavagna interattiva, un computer più monitor e stampante e un lettore DVD.